... Amici miei, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo in questa nuova Ma amici miei, avete pubblicato, avete postato, vi siete iscritti a subreddit più grande d'Italia Dove sicuramente c'è un po' di... Prima o poi entreremo in questa sezione in you La sezione più brutta dove c'è lo schifo Un giorno ci entreremo signori, faremo un episodio dedicato Ma di bello sicuramente c'è signori che per gli amanti di MyProtein Non so se posso dire, è illegale dire una roba del genere Io credevo che gli sconti fossero finiti Perché settimana, questa era la settimana del 70% quella passata Da oggi fino al 31 gennaio avete l'80% di sconto su tutto Io voglio capire quanto si paga, scopo, è gratis praticamente Un chilo di burro di mandorle lo portate a casa con fino all'80% di sconto Più con il corice a sgarra avete un ulteriore 15% Potete comprare acqua proteica Non è, non esiste l'acqua proteica Ma questa è l'ultima settimana dei saldi di gennaio Quindi dove potete fare gli stock per tutto l'anno praticamente E signori, arriviamo a 4 mi piace Per non fare... Ma partiamo subito con un po' di... Hot della settimana Allora, vediamo un po' Blah, 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 blah Io quando comprendo che tutto è attaccato si scrive staccato Postato dal gabinetto No, a me mi ha basso budget, signore Chi sono i maiali che hanno messo 1200 upvot? Inaccettabile Inappropriato Nessuno, assolutamente nessuno I bambini di 6 anni nella macchina di fronte a te Appropriato Quando hai fame quindi vai da tua nonna per merenda alla nonna Ho guardato nel tuo futuro, ho visto torte Mangia la nonna che ti vedo sciupato Quando mia nonna mi chiede con cosa voglio il panino Io spec Non si scrive così Ma ci sta Amici miei Questa è la settimana dei meme di ti aspetto Cioè Scegli il meglio Scegli i campus Ti aspetto Nessuno Assolutamente nessuno Le cipolle Tir con dentro camion Con dentro macchina Veramente 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 Mi and the boys Che creiamo un falso della gioconda Per poterla sostituire all'originale Is this an Arsenio Lupin reference? Signori Vedo che la sezione hot Oggi Non è una sezione buona Sapete che cosa succede oggi? Entriamo direttamente nei top della settimana Sì La giornata prepara campi di detenzione per dissidenti pandemici Is this a black humor reference? Io apro youtube Pubblicità su come guadagnare 20.000 euro in un mese Scarica anche tu questa app Che ti consente di farmare bitcoin O fare trading online In modo tale da comprare anche tu Una casa a Dubai Con un garage all'interno del quale ci sarà una Lamborghini verde Io vado a mangiare in un ristorante a Firenze Io al cameriere vorrei una Fiorentina ben cotta Gli altri clienti nel locale Questa locuzione Fiorentina e ben cotta Non stanno insieme È un controsenso Non puoi mangiare una Fiorentina con Ben È neanche cotta Quel momento in cui sta giocando a GTA e mentre stai in macchina vedi un tipo con un'auto più bella della tua History of my life Tra l'altro vi ricordo che noi stiamo facendo GTRP sul canale Viola Quindi vi lascio il link nel primo commento in descrizione Perché stasera andiamo su GTRP Ciro della Rosa Velazquez Quando manca il prof di religione al suo posto viene un supplente che pretende anche di fare lezione Oggi abbiamo l'onore di assistere allo spettacolo di uno dei migliori clown al mondo Io mi ricordo il supplente di religione O il supplente in generale Che pretendeva di fare lezione Non si fa È illegale Proverbio Chi dorme non piglia pesci Io che ho appena creato la farmatomatica Io non ho mai creato una farmatomatica È fake Fake news Taghiamo questo meme Top 10 Non sono io Fake Fake Nessuno Me and the boys Quando da piccoli andavamo sui go kart Beh magari sugli autoscontri dai Sui go kart No però Cioè non si fa Sugli autoscontri si Mio Dio ma parla di noi Ma parla di noi Bellissimo Approved Verifica di tema in classe Descrivi tuo fratello Il mio tema Uomo dalle mille sfumatori di pirla Ragazze Due milioni di notifiche Di like Ma vai Solo due milioni di like 195 Upvote 196 Sono famoso Oh my god This is the bat Top 10 Stadestani My death YouTube prima Vuoi vedere un Bla bla in HD Tieni figliolo Ricorda di chiudere bene La porta del bagno Per favore verifica la tuta Per vedere la stagione 4 Di Peppa Pig Signori Allora L'altro giorno Mi è stato messo In più 18 Il video dei meme Da 15 secondi Quindi cosa significa È arrivato fino a 100.000 views Dopodiché Si è fermato Bloccato Perché nessuno potrebbe vederlo E poi l'hanno risbloccato Perché Come mia madre Pela le patate Come io pelo le patate Is this a prehistoric Reverence Golden Conte Ma parla di me Io sono questo Che pelo le patate Questa è la mia ragazza Che pela le patate È un'opera d'arte Sbocco invece Le mie patate sboccano Per quanto fanno schifo Quando senti tua mamma Chiamarti con il tuo nome completo C'è qualcosa che non va Quando succede c'è qualcosa che non va Non va niente Tutto male Papà Oggi devo uscire Mi puoi accompagnare? Certo Ora vado a dormire Quando devi uscire Svegliami Sempre papà quando lo sveglio Svegliami 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 Veramente molto rischioso alzare il papà Che russa Quando stai recuperando tranquillamente una verifica per cui hai studiato molto Ma ad un tratto ti cade il foglietto che ti hai ripreparato per revenienza Ma è bellissimo È bellissimo il meme così Oh my god Nessuno ma me e nonne nel gruppo famiglia la mattina Buongiornissimo Speriamo che tu possa passare un'incredibile e buona giornata Quando cerchi il libro di inglese e vedi dei tizi sorridere nella copertina Golden Cod È vero Ma perché nei libri di inglese sorridono Quando a catechismo ti chiedevano perché eri così felice di fare la comunione e la cresima Non so se si può dire In our mind Everything is totally connected with the UK Absolutely Absolutely This decision is a decision Brexit is Brexit This is a very interesting debate Because this debate will be a debate about Mio dio ma sta parlando di noi Nessuno Persona nelle pubblicità di solidarietà pubblica Golden content per spider mat 06 Oh mio dio ma è bellissimo questo meme È bellissimo Inglesi confondono lo spagnolo con l'italiano italiani e l'ho presa sul personale Imparate a guidare dal lato giusto stro... Io apro cyberpunk e la mia playstation L'importante è che non esploda L'importante è che non esploda Cuccioli dispersi in Alaska quando apro un pacchetto di figurine cucciolotti Splash Signori e con terribile disappunto per i cuccioli dispersi in Alaska Io vi ricordo che questa sera noi ci vediamo sul canale viola per andare a vedere le avventure di Ciro De Rosa Velasquez in GTRP Oggi probabilmente riusciremo a diventare medici Chi lo sa Vi aspetto quindi sul canale viola Tra l'altro vi ricordo che io sono sempre tutti i giorni In live sul canale viola dalle 13.30 più o meno fino alle 4 per Warzone E la sera tutti i giorni dalle 23 Ma le sole live solo per i veri notturni Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Cliccate sulla campanella per trasformare questo canale in una chiesa E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao